Hello friend Eh sì, perché è così Man with a plan With a plan Ma è tutto plan? Nice Cute Io veramente l'altra volta ho vinto Cos'hai vinto Andrea? Nella vita sei un barbone No, Devil Ma nessuno ti crede secondo me Quindi arriveranno un po' di regalini Mi sa Mi sa che arriveranno un po' di regalini Che è successo qua? Si è bloccato un po' È venuto? Complete? Che cosa? Oh Ah Oh no Oh no E niente Stefano, ma hai capito cosa sta facendo? Non ci credo Capuno, ancora? No Andrea Ma non puoi andare con la medaglia di bronzo Non si può Dani, grazie Non si può andare con la medaglia di bronzo Cioè, lasci tutto a Stefano e a Devil? No Stefano secondo me ci sta pensando Ci sta pensando perché lui è furbo Stefano Lui è Timido, timido Non parla troppo Non dice tanto Ma lui agisce Quindi state attenti ragazzi No Andrea Ma senti Ma senti cosa sta dicendo Sono forti Sono forti Anche tu sei forte Andrea? Lo so che sei forte Lo so Me lo dimostrerai Nooo Nooo Devil fa solo il figo qua Nooo Ragazzi Devil io mi sono presa un po' di confidenza Quindi sappilo Hey Dan Hi guys Niente da fare Io mi sono presa un po' di confidenza Quindi Fate Fate quello che volete Mi raccomando Stefano Non agire troppo in fretta Perché lo stracciamo Roni Ma Roni ma stai guardando la partita? O sei qui? No Roni Hai visto che fai il figo ancora stasera Roni? Guardalo che fai il figo lì Top 1 Top 1 Nooo Vabbè Bella partita Si penso che sta guardando Italia 1-0 era Più partita che Ah Ok No vabbè Olè olè sono top 1 Ma guardalo Ma guardalo Finita 2-1 Per l'Italia? Nooo O no Ciao Luca Ma tanto i mondiali sono ogni quattro anni Quindi